Un vero percorso ad ostacoli con il rischio che mettendo male le ruote nella stretta carreggiata si possa finire nella scarpata sottostante. Siamo sulla strada che da Rocco Sambaccio porta Novilara e Candelara che versa da tempo in pessime condizioni vuoi per alcune frane che si sono verificate e per la scarsa se non totalmente assente manutenzione. Ma la vera sciagura di questa apparentemente e sottolineiamo apparentemente strada secondaria si verifica quando piove. Qui non si riesce più a camminare, ci spiega il titolare di un agriturismo proprio sulla strada. Lui di situazioni critiche ne ha viste molte e risolte anche diverse. Pende troppo, quanto è bagnata, c'è la terra, già anni è dietro e due o tre macchine c'è andato di sotto. Io un camion l'ho tirato su io con trattore, un altro siamo venuti su con due trattori abbiamo fatto da solo, un'altra volta è venuto in caratrezzi. Sono cose che perlomeno darle una sistemata. Noi non pretendiamo chissà cosa, però... Il signor Gianni, avendo i mezzi e la buona volontà, non è la prima volta che compra sacchi di agglomerato rapido e tappa lui le buche della strada per rendere la vita ai suoi clienti e agli abitanti del luogo meno difficoltosa. Ma vorrebbe vedere più attenzione da chi ha promesso di metterci mano. Io abbiamo fatto presente anche al sindaco già da due anni, da dargli una sistemata, ma qui rimane e chiudono le due buche più grosse, addirittura vengono su con una carriolata di catrame, chiudere quelle piccole perché quelle grosse non bastano niente. L'intervento sulla strada si rende urgente e necessario anche perché, come vi dicevamo, solo apparentemente questa è una strada secondaria, ma in pratica il traffico, soprattutto nel periodo estivo si triplica, dice Gianni, perché da Novilara e Candelara per arrivare a Fosso 6 ore e bypassare il traffico cittadino di Fano passano tutti da qua. Inoltre, altra considerazione che Gianni ci suggerisce riguarda il traffico pesante. Tutte le abitazioni della zona sono servite dal gas GPL e non dal metano di rete, quindi qui passano periodicamente pesanti cisterne di gas. Vi immaginate che cosa succederebbe se una di queste si ribaltasse?